Cos'è quella? Una farfalla? Mi siedo in braccio a te, d'accordo? Sei una di classe. Ti faccio una cintura. Una cintura di soldi? Io ho i dollari come una vera zoccola. Almeno metti le cose in chiaro. C'è un ragazzo che vuole una che sappia il russo. Si occuperà lei di tutte le tue necessità. Dio benedica l'America. Bella casa. Cosa fai per avere tutto questo? Sono un trafficante di droga. Ah, davvero? Ci hai creduto? Benvenuti a Las Vegas! Se sposo un'americana, non devo più tornare in Russia. Vuoi che diventi la tua mogliettina? Non scherzo. Tre karate. Perché non quattro, o cinque, o sei? Vi do due settimane. Vado a rilassarmi nella mia villa. Cosa? Il vostro non è un matrimonio vero. Lo annulleremo e tu non hai voce in capitolo. La tua vita sarà distrutta. Devi aiutarmi a trovare Ivan. Bene. Sono la moglie di Ivan! Mi piace a Nora. È un bel nome. È un bel nome. N Iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti.